La diciassettesima giornata del campionato nazionale di serie B2, girone F di pallavolo maschile, prospetta all'Eurospin Alghero una trasferta non certo agevole. I ragazzi di coach Matta, reduci da una tiratissima vittoria 3-1 nel derby contro la Comer Volley Iglesias, giocano sul campo della Volley Fiumicino. I romani, vittoriosi per 3-1 nel derby cittadino dello scorso turno contro la Cimas, sono attualmente quarti, a 4 punti dalle posizioni che portano agli spareggi, promozione e adotto dalla Vetta, che dà un biglietto per il Paradiso. Gli algheresi seguono invece a 9 lunghezze di distacco e sono settimi, con 7 punti di vantaggio dalla zona retrocessione, occupata per metà da formazioni sarde, la pallavolo quartuccio e la garibaldi la Maddalena.